Musica Ho appena cambiato la squadra, come potete vedere abbiamo Jibanyan Kamasan dentro lo strello E ovviamente sabbio come curatore che per il momento sembra serva molto 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 All'ogni modo se dobbiamo selezionare una nuova missione dobbiamo andare a campo fiorito No pattuglia valdoro centro, cambio fiorito l'abbiamo appena fatto quindi pattuglia valdoro centro Ok per me le giravolte Kaijai di pattuglia vuoi accettare questa missione? Sì e come abbiamo visto dall'anticipazione dello scorso episodio Questa volta avremo a che fare con un boss di tutto rispetto chiamato Tuttosso Anche se poi alla fine è uno degli yokai boss più deboli di tutto quanto il gioco Cioè di yokai watch in generale diciamo Ma siamo pronti siamo arrivati a valdoro centro Oh attenzione siamo benissimo iniziamo eh Che dobbiamo fare allora? Date una lezione a tutti gli yokai malvagi Ah semplice semplice proprio botte ammaccato Va bene Chi c'è qui? C'è qualcuno? Opla opla O voglio? Io non lo voglio Oh segnam 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 Non sto vedendo Se per favore Ah eccolo va oh perfetto Chiacchierate ma quanti due che ci sono? Eh già siamo a tre come se nulla fosse Ah l'uomo di valdoro Se c'è qualcosa non si può sfregare Va bene Ma è giusto così eh Romorio vuole diventare amico? No però ci lascia una sfera onica E' sempre gradita Un'altra è qui Oh attenzione arriva un altro yokai qui Sei tu malvagio? Allora devi schiattar Ah ha fatto l'incanto Dentro strello Ottimo Ma sbaglio o c'è Lasciate che mi unisca a voi Dov'è? Oh come giro eccolo qua Ciao Volevo darti un buffetto ma Non mi ha permesso di menare i miei compagni in questo gioco Il che è tutto il mio vantaggio eh Per carità Ah ok talismani non li prendo perché Preferisco avere oggetti curativi Anche se credo che serviranno poi eh Comunque sia Oddio chi è questo? Ma la go Dov'è? Vai via Ma che giro sta facendo qualcosa? No mi chiedo perché Capace poi non fa nulla Ah bene invece Mena come un turco Mena come i turchi Sti come a giro Ok ora A questo punto dovrebbe Comparire se non sbaglio La porta Ma no Io faccio tutto Oh Speriamo in tutte le parti Ah ok Tranquillo fratello Non c'è problema per me Ah ok Però è apparsa la porta Ma no Non ci fermiamo davanti a nulla noi Bene ne manca uno Che è qui davanti alla porta Pestiamo di menticap Ed è andato anche lui Obiettivo completato Oddio 270 sfere raccolte Niente male Pattugliamento Completato Pattugliamento? Pattugliamento? Pattugliamento completato Ok apriamo la porta E torniamoci a casa 6,70 in totale Buono Molto buono Servono Servono tanto Sì oggi possiamo farne altre E vai che battaglia troppo giusta Io Rinfrescami la memoria Tu chi sei? Lui è KJ Una squadra di letto sta creando disordine a Valdoro Centro È la squadra KJ E lui è il loro leader Yo yo È bello sapere che lo smilzo se la cava Yo Molto bene Sentiamo questo KJ che vuole da noi Sono venuto a vedere il mio fratellone Fratello? Nel senso di amico intendi? Per tutte le spirali Che quel che c'hai? Sei mio fratello Comagiro? Bella fratello Da un po' che non ci si vede Che storia Sei diventato uno blaster Yo 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 Uno Comagiro Perché sei vestito così? E come parli? Fratello Unice della mia squadra Ehi Non so che tipo di voce dargli Perché Certe volte sembra che parli in romano Fratello Unice della mia squadra Insieme spaccheremo di brutto Ehi un momento Datti una calmata Come stanno È fondamentale per noi Non puoi portarcelo via così Scusate Scusate Che andate di rifare così allora? Combattiamo E chi vince Si prende il mio fratellone Ci sto Va bene Ci becchiamo a Valdoro Centro Yo Yo Comagiro Ma che ti è preso? Una battaglia fra squadre La cosa si fa interessante Non possiamo perdere È fuori discussione È una squadra d'elite Però non abbiamo molte speranze Bene Credo che sia arrivato il momento Di sbloccare la pattuglia Puoi accettare le missioni Di pattugliamento Selezionando pattugliamento Sulla bagheca a missioni Potrai esplorare liberamente la città Se vuoi avere tanti amici di yokai Provare ad andare di pattuglia Grazie alle informazioni di avvistamento Vedrai quali yokai si trovano Nel livello interessato Le informazioni cambiano Dopo ogni missione di pattugliamento Ricorda di controllarle Prima di andare in missione Inoltre Quando si ripattuglia Sono disponibili Le missioni mini mini Le missioni mini mini Sono dei piccoli ostacoli Che trovi nel corso delle missioni Già che ci sei Per completarle quando si ripattuglia Completandole Otterrai sfereoni Ora siete libri di pattugliare Quanto volete Inoltre le zone da pattugliare Aumenteranno col tempo Potete affrontare La squadra di KJ O allenarvi un po' pattugliando Beh penso che Ci alleneremo un pochettino prima Sta a voi scegliere Ovviamente col potere dell'editing Farò tutto quanto In pochissimo tempo Ok questa è una missione Che caricherò però In un episodio a parte So già qual è Non so chi tu sia Ma di essere gente quadro Che è arrivato il momento Che io mantenga la mia promessa Aspetterò al solito posto Ora puoi accettare La missione secondaria In solitaria Blasters isolati Bene quindi La missione blasters in solitaria Cosa è? Praticamente è la missione di Usapion Semplice Ora Si potrebbe dire Usapion 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 Insomma Ha diversi modi Tutto Bene insegnamento Che dai bambini Però è vero Qui conta solo la vittoria Perché se perdi Non si va avanti Non vado l'ora di averti con il fratellino Ma sai zitto stai E poi fratellone Dove sono? Mi ha rallentato Mannaggia Disincantatemi ragazzi Oh attenzione Lo vedo E su quanto dura? Eccolo Ok fatto Eccolo qua va Vieni qui Che proprio che è Jay Eccolo E' andato E' andato E' andato Andato Che è Jay Come giro? Stai bene? Sto bene Tutto ok Senti che energia Io Ne avevo visto un altro Che si aggirava da queste parti Eccolo là infatti Cerco di non correre sempre Per risparmiare un po' le energie E mi ha rallentato Eccolo Dai che ci arriviamo Che pistol Andato Con l'aereo pure Se ne va Ok grande Oh yeah Ok ora adesso Dove sono gli altri due? Ovviamente stanno girando in città Quindi mi toccherà Trovarli andando in giro a caso Eccolo qua ragazzi Sta qua Pronti Uccelladro Proprio uccelladro Tra tutti Uccelladro Lei sono qui? Si Così Vai E' scorbi E' andato Ottimo ragazzi Abbiamo finito Facciamo battere Tra le piatta Questo era solo Il riscaldamento No Nell'arena No Te lo scordi Non è nell'arena Quel Traspec è laggiù Vuoi fare sul serio Allora? Ragazzi Questo qui Merca Il riscaldamento Ma facciamo sul serio Sto avvenendo Dove è? Traspec è? Eccolo qua Blevi sono Traspec Pronti di fronte a me? Voglio entrare nello specchio E trasportatevi Verrai trasportato subito all'arena Grazie Alla buon'ora Pronto Combatti Combattiamo A saperlo mi risparmiavo l'energia Max Eh vabbè Facile comunque Sì Guarda prima Non è che cambia qualcosa Ebbè E' più E' più facile Ancora più facile Non va Non va E' non va no Perché è troppo semplice G-G-Bunyan Uh un'altra moneta Ottimo Lo usiamo subito Allora è deciso Come sa rimarra con noi Nessuna obiezione Vero? D'accordo Niente Io 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 Come aggiro Quindi sei tornato in te Sei di nuovo mio fratellino Io aspetto con una chiamata Ah qualcuno mi chiama Sì Scusa scusa Rimpegnato A club Giusto Ok ci vediamo lì I miei amici mi stanno aspettando Ci si becca fratellone Non puoi entrare a scondola con noi Dai Vieni a fare il blaster Come aggiro E allora Già si capisce Che bello Già ci hanno l'incipit Per la nuova missione Che cosa Come aggiro È stato catturato Sì È successo tutto così In fretta Eh beh Hanno portato bene Un lampo Più veloce di me Quando rubo Non ci credo Onestamente Non avremmo potuto fare nulla Per evitarlo Come aggiro Fratellino mio Che gli succederà ora Signore Quelle capsule slot kai Sono state avvistate A valdoro nuova Sicuramente È lui che ne si nasconde Il rapitore Su forza Dobbiamo andare a valdoro nuova Sbrighiamoci Komasan Sembri così Diverso dal solito È vero Sento che potrei seguirlo Ovunque KJ No Come aggiro È mio fratello Farò tutto per salvarlo Questo fanno i fratelli Davvero Io ho una sorella Ma non ho mai fatto Una cosa del genere Ben detto Komasan Conto su di voi A tutto gas Arriveriamo a valdoro nuova In un batter d'occhio Oh sembra che Nebina abbia Una varpa per noi Perché non la provate anche voi Musica grande Beh ascoltare musica Non è gratis Dovrete acquistare I brani Usando biglietti musicali Sarebbe bello Almeno avere Una canzone gratis Però Mi sono dimenticato Di fare la chiusura Del video Quindi la faccio ora Come sempre Cucci vi ringrazio Per aver seguito Anche questo nuovo Episodio Di Yokei Watch Blasters Come sempre Vi ricordo In descrizione I link per Twitter E Instagram Ma soprattutto Se ancora non siete iscritti A canali Iscrivetevi E noi Ci vediamo Come sempre domani Con un nuovo video Bye 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 bye